Consigli di lettura di Leggerimente. Il libro che vorremmo consigliare oggi si intitola Gatto nero, gatta bianca di Silvia Borando. L'editore è Minibombo. Innanzitutto vorrei consigliare anche gli altri titoli di Silvia Borando perché è un'autrice molto valida e i suoi testi meritano davvero. Gatto nero, gatta bianca è un libro che può essere consigliato fin dalla nascita perché viene usato in modo molto sapiente il bianco e il nero che sono i colori che attraggono fin dall'inizio i nostri giovani lettori e diciamo che sicuramente dai 18 mesi, due anni, verrà apprezzata anche proprio l'avventura di questa storia. Ancora adesso che il mio bimbo ha tre anni e mezzo adora sentire raccontare la storia di Gatto nero, gatta bianca. È la storia di un'amicizia di due gatti che vivono in due mondi completamente diversi e si incontrano. c'è la magia della curiosità del conoscere un mondo diverso dal proprio, quindi la magia della scoperta e anche la voglia di far conoscere il proprio mondo, la voglia di donare al nuovo amico qualcosa del proprio mondo. E infine, che io adesso non svelerò, c'è anche una sorpresa sicuramente molto molto divertente. Quindi per i giovani lettori consigliamo Gatto nero, gatta bianca di Silvia Borando, editore Minibombo. Buona lettura!